Ho due DeLorean, sei la macchina di ritorno al futuro. Esco da lì e dico mia moglie, sai, ho barba lunga, capelli lunghi, ero proprio, sei, un indigeno. Sì, sì, mi ricordo. Dico, amore, basta, per me è finita, non voglio più niente di materiale, siamo andati a restituire la macchina che avevo in leasing e ne sono uscito con due. E mi guarda e mi fa niente, non è cambiato un cazzo, è rimasto quello che è. Sentite le ultime due domande di rito che facciamo a tutti gli ospiti. Diciamo, sta impattando un meteorite sulla Terra, sappiamo per certo che la Terra verrà distrutta. Qual è l'ultima cosa che facciamo? No, 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 preferireste rimanere sulla Terra e godervi gli ultimi giorni sulla Terra o scappare sulla nostra astronave? Allora, parto io che chiaramente, ma penso anche Gerry, io parlo per me, essendo mamma di due bambini molto giovani, nonna di un nipotino e ho una famiglia che si sta allargando, devo salvare la mia famiglia. No, vabbè, ma figlio. Cioè la sopravvivenza vale. Quindi vieni con noi. Io vengo con voi e mangio anche le pastiglie. Ci provi. Ci provi. Il gelato di polistirolo. Sì, per la stessa ragione. Se fossi sola, sarei rimasta qua. Avrei fatto tutto quello che non ho mai fatto nella vita, negli ultimi sette giorni, avrei fatto un macello. Tipo, tipo? Tipo, tipo?